Con un guizzo di rara ironia, Maurizio De Caltaldo lo aveva soprannominato Il Secco, buffo soprannome per un omone grande e grosso che passava di certo inosservato. La villa esagerata fuori Roma, vestiti e scarpe di un bianco immacolato, come nemmeno gli sciicchi del Golfo Pelsico o Sugar Ray Richardson. Lui era Enrico Nicoletti, un uomo che sapeva come farsi riconoscere e come farsi rispettare. Ma è fatto una mano, mai impugnato un coltello o premuto un grilletto, nonostante nel passato fosse stato anche un carabiniere. Eppure Nicoletti era un capo, un boss, uno di quelli da temere, uno di quelli con cui trattare, uno di quelli che a Roma, nel centro della capitale, nei quartieri periferici, sapevano come comandare e sapevano farsi temere. Perché? Perché tutto questo? Perché Enrico Nicoletti non rapinava, non ammazzava, non spacciava, non taglieggiava, non sfruttava la prostituzione. Era diverso dagli altri boss. Lui il rispetto lo teneva in un altro modo. Maneggiava il denaro, quel carburante unico che, nel mondo della malavita, funge da emetto propulsivo, da facilitatore, da lubrificante per gli affari e da obiettivo a volte irraggiungibile. Nicoletti non era uno qualunque, era il cassiere della banda della Magliano. In realtà Enrico Nicoletti, nel corso della sua lunga vita, ha sempre cercato di negare questa etichetta, bisogna dirlo, piuttosto scomoda. Vuoi per i processi, sempre tanti, sempre per tanti, troppi fatti delittuosi. Vuoi perché gli piaceva presentarsi come un signore, un signore vero e proprio, quasi un commendatore, ingiustamente tirato in ballo in affari che, a suo dire, non gli appartenevano. Quando lo arrestavano, ci teneva ad apparire sempre curato, ben vestito, ben rasato, e non rinunciava ai tanti vezzi che aveva. Agli interrogatori, ad esempio, al posto dell'acqua e rubinetto del caffè mezzo freddo, magari preso alla macchinetta o in arrivo da una caraffa lasciata lì in mezza giornata. Pretendeva il tè, fatto al momento, caldo, e quei pasticcini. E guai se questi ultimi non erano di buona qualità, si lamentava. Immaginate che tipo. C'è a dire una cosa di Enrico Nicoletti. È sempre stato dipinto come il grande cassiere della banda della Magliana, ma va detto che non fu il solo e non fu nemmeno il primo a occupare questo ruolo. Perché la banda, dal 1977 fino agli inizi degli anni novanta, si era rinnovata, aveva attraversato varie fasi. Quella banda che terrorizzò Roma per così tanto tempo, costituendo una sorta di holding del crimine, di cerniera tra mafia, camorra, terrorismo nero, affarismo sporco e versione, quella banda aveva accolto al proprio interno tanti elementi. Prima di lui, ad esempio, c'era stato il sormembo alla lagrafe Domenico Balducci, un cravattaro che nella vetrina del suo negozio a Campo dei Fiori aveva fisso un cartello inequivocabile. Qui si vendono soldi, giusto per far capire quale fosse il vero business del sormembo. Balducci era bravo nel suo lavoro, ma era spregiudicato. Aveva pagato per la vita uno sgarbo interno alla banda. Era stato ucciso per degli affari finiti in maniera troppo personalistica. Poi c'era anche Ernesto Diotanlevi, che però era rimasto invischiato in un altro pasticcio brutto, quello del crack dell'Ambrosiano. Ne abbiamo già parlato in altri video. In quella vicenda è rimasto coinvolto un vero boss della Magliana, Ercamaleonte, Danilo Abbruciati. Gli abbiamo dedicato un video apposta, l'ho trovata dal canale. Su incarico di Ernesto Diotanlevi e di Pippo Calò, Mario Agliaroro, come si faceva a chiamare a Roma, capo della famiglia mafiosa di Porta Nuova, Abbruciati si era recato a Milano per un atto intimidatorio, o forse di due un tentato omicidio, ai danni di Roberto Rosone, vicepresidente del Banco Ambrosiano. Abbruciati una mattina aveva atteso Rosone sotto casa e aveva cercato di sparargli alle gambe. L'arma si era inceppata, proprio nel momento topico. Rosone era rimasto solo ferito. La reazione di una guardia giurata della vicina filiale dell'Ambrosiano era costata carissima al camaleonte che era rimasto steso sull'asfatto, fulminato mentre cercava di scappare in modo concoprice. La morte di Abbruciati, oltre ad aprire una nuova fase all'interno della banda Amagliana, aveva lasciato Diotanlevi a gestire con Pippo Calò la scottante partita dei miliardi riciclati dalla banda nel banco e fatti sparire da calmi. Nicoletti invece era più furbo. Investiva i provinti delle attività criminali della banda in attività legali. Non faceva come gli altri, non reinvestiva nello strozzo piuttosto che in altre attività come il traffico di droga. No, preferiva il mattone, preferiva le palazzine da costruire e che spuntavano come funghi a Roma a partire dagli anni settanta in poi. Oppure altri affari puliti, ma molto convenienti, lucrosi. E se qualcuno dei tanti capi della banda, forse il vero punto debole della banda stessa, soprattutto dopo la morte di quello che poteva essere l'unico capo, Er Negro, Er Fornaretto. Ecco, se qualcuno dei tanti capi alzava la testa, usava pretendere, stecca doppia o un nuovo rapporto di distribuzione dei profitti. Beh, il cassiere Nicoletti aveva sempre l'ultima parola. Giuseppucci, Selis, Toscano, De Pedis, uno dopo l'altro, Nicoletti ha visto i vari capi finire tutti sottoterra. Mentre Claudio Sicilia, il Vesuviano, Maurizio Batino, Crispino e Freddo di romanzo criminale si pentivano, la cassa restava nelle mani sicure del suo unico reale padrone, che provvedeva a riciclare e accumulare, ma spartendo sempre meno e con sempre meno soggetti. Era questo il segreto del secco di Enrico Nicoletti, continuare ad accumulare il suo tesoro, ma riducendo sempre di più le persone al tavolo con cui trattare. Un uomo che ha rappresentato un momento importante all'attività di collateralismo all'organizzazione criminale per massimizzarne i profitti, attraverso articolate attività di riciclaggio, il collettore di più mondi criminali, con collegamenti in dubbi con la politica e la pubblica amministrazione. Chiaramente aveva un tasso criminale molto elevato, ma negli ultimi tempi si era improvvisamente eclissato, così lo descriveva il magistrato Otello Lupacchini, una delle toghe che nel corso degli anni si è occupata delle vicende dei banditi della Magliana. Enrico Nicoletti non c'è più, si è spento a Roma tre anni fa, il 4 dicembre del 2020, all'età di 84 anni, fino all'ultimo, a dispetto delle indagini, dei processi, ha negato di essere stato parte della banda o di aver anche solo collaborato con quei criminali. Nicoletti era fatto così, smettiva, minacciava querele, sempre incurante delle testimonianze che lo chiamavano in causa per gli affari sporchi. Persino per uno dei peggiori, l'omicidio di Renatino De Pedis, il capo della fazione Testa Cina, ucciso in pieno giorno nel febbraio del 1990, quando sembrava diventato lui il re di Roma, l'intoccabile per eccellente. Renatino De Pedis aveva seppellito, a volte con le sue mani, tutti gli altri avversari. Sembrava appunto lui essere arrivato in alto, più in alto di tutti, ma si era fatto dei nemici. Uno era Marcellone Polafigli, che non gli aveva mai perdonato lo sgarbo di averlo abbandonato durante la sparatoria di Via Donna Olimpia, nel periodo della resa dei conti tra la banda e il gruppo dei Pesceroli, la famiglia Proietti. E l'altro? Beh, l'altro si è sempre detto che fosse proprio lui, Enrico Nicoletti, il secco, che era stanco di continuare a fare affari con Renatino. Ma quel legame non è mai emerso. Se uno dei killer di Renatino De Pedis ha comunque confermato i contatti avvenuti con Marcellone Polafigli, di Nicoletti si è sempre detto molto, ma ha provato non abbastanza per arrivare a delle condanne definitive. I fatti di cronaca di questi ultimi anni hanno dimostrato che la banda della Magliana non è morta. Ha solo cambiato pelle. Quella ha cambiato anche un po' nome. Accettando la leadership di chi ieri era un collaboratore esterno, un fiancheggiatore o un killer prezzolato, è oggi un boss riconosciuto. Ne ha un esempio chiaro Massimo Carminati, ercecato. Quello che sembrava fosse solo un terrorista nero che ogni tanto si rivolgeva a quelli della Magliana per riciclare i proventi delle rapine. No, ercecato è molto di più. E lo si è visto con l'inchiesta Mafia Capitale. I killer ancora ignoti ci sono, ci sono ancora e continuano a essere a disposizione dei nuovi padroni di Roma. La polverina, la cocaina, gira sempre, a ritmo vorticoso. Immaginate che negli ultimi report internazionali l'Italia è il primo posto in Europa per consumo di stupefacenti. Certo, a Roma ci sono molti meno eroinomani. I ragazzi che vengono ritrovati con la siringa nel braccio, moribondi, magari agli angoli delle strade o sotto un ponte sono per fortuna sempre di meno. Ma non per questo la droga è stata sconfitta, non per questo gli spazzatori sono diminuiti. Manca una tessera comunque al puzzle. E quella tessera che forse permetterebbe di conoscere tanto era quella del secco di Nicoletti che, come un consumato attore di teatro, avvolto nei suoi abiti bianchi ed eleganti, se ne è andato in silenzio. E in quel silenzio si è portato appresso gli inconfessabili segreti della banda. La morte di De Pedis, certo. Ma anche la rapina del secolo, ne abbiamo parlato. L'assassinio di Tony Chicharelli, il falsario della banda. La sparizione di Emanuele Orlandi. Le reali collusioni della banda con mafia e camorra. E tanti, tantissimi altri misteri. Se oggi la banda della Magliana è ancora viva e veggiata, se ancora oggi i suoi uomini continuano a imperversare e a comandare, è perché tutti questi misteri non sono stati risolti. Perché qualcuno ha ancora interesse affinché questi misteri restino e risolti. È un peccato che non si possa più porre delle domande a Enrico Nicoletti. Ma c'è da scommettere che se fosse ancora vivo continuerebbe a negare pretendendo il tè e dei pasticcieri di qualità.